20 minuti Vai Vino Vai Anche perché Da quando vogliono partire Poi domani Speriamo Poi E anche perché è previsto È previsto un po' Visto ieri sera Le previsioni Fine settimana non vengono Infatti hanno indovinato Anche altri Vai Vino vai vai Non guardare vai bene vai bene 21 minuti 21 minuti 21 minuti Sì 21 minuti Sì 27 e 30 Due chilometri e mezzo Vai Vino vai 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 Vino vai vai Bene Già rispetto all'altra volta Avemo anche 5 minuti D'anticipo Anche 4 minuti Dico nel totale Avremo abbondantemente In 10 minuti Di sola andata La usata fice 42 Io abbiamo 35 di tempo Noi siccome la usata è andata fice 42 Ora se facciamo 36 28 Avemo già 5 minuti Quattro minuti Ma devi sempre parlare Ma devi sempre parlare Quattro minuti Quattro minuti Quattro minuti Quando si ferma Quattro minuti Io lo riprendo Quattro minuti Quattro minuti Ora E' Pote la fortuna di sovare che devo trovare la copertura un anno la copert ha fatto meno al ritorno e all'andante ora qua quando ritorni è un po' che è a favore la copertura l'ha fatta a dicembre però poi arrivare in Sicilia ce l'abbiamo un po' c'era l'acqua freddissima ci voleva fermare per il freddo? no, perché già era compromessa la traversa dal momento in cui qua mi aveva tirato con 42 c'è 4 minuti in anticipo rispetto all'altra volta solamente da andare da 40 ora se recuperiamo pure 2-3 minuti peccato che si è smesso l'altra volta ha fatto 48 di ritorno e 42 da andare ci ci aiuta a preparare l'acqua freddissima l'acqua freddissima quanti metri mancano? 200 metri 200 metri 200 4 masche 100 metri 100 metri 25 100 30 70 70 80 30 30 30 30 30 30 30 30 100 metri 100 metri Vai Nino, vai Nino, vai, vai, vai 30 a 100 30 a 100 Mettete ora, metto, come serve Vai Sì, io sempre a sinistra Vai, vai Ancora non lo posso Se vediamo quanto tempo è stato bene Da non neutralizzare Siamo a tempo 30 a 40 Vai Nino, sto deciso Vai, vai, vai 20 a 100 20 a 100 20 a 100 20 a 100 Mettete da capo i piedi Poi datemi il risultato ufficiale Gira, gira Tocca Nino Tocca, ritorna, ritorna Vieni 37 37 37 20 37 20 37 37 E' più bravo di lui E' più bravo di lui Sì, più bravo di lui Lino, vai avanti che ti passa a sinistra Quanto? Vai, vai 37, bene UTS, le comunico che stiamo tornando verso Capo Perona. Traversata singola. Andrea, che tempo c'è? È 50. 50 minuti siamo? 41 e 50. 50 minuti? No, 41 e 50. No, 41 e 56 minuti, cazzo. No, 41 e 50 minuti. Già, facendo un stacco, non siamo. Dico, tutti orientativamente. Orientativamente, io penso che questa volta, se tutto va bene, ce la dovremmo fare. No, 42 ora. Perché, con 35 che fici, con 37 che fici dall'andata. Sono 5 minuti già recuperati dall'andata. 45, no, 46, 45 ce la potremmo fare. Eh, no, 45 ce la facciamo. E 37 e fanno 1 e 22 e siamo a posto. Ma non hai il record? Quanto è il record? 1 e 24. Siamo 1 e 24. Mi secco perché dico che abbiamo pure un record in più. Oh, Nino! Siamo buoni! Vieni, vieni! Spaccati! Vieni, Nino! Vieni, Nino! C'è un ne passi di vivo che ti porto, parola d'onore. Ahahahah! C'è un ne passi di vivo che ti porto. E ti ridere, non lo farei ridere! E ti ridere, Nino! Ahahahah! Ahahahah!